Ciao a tutti, mi chiamo Giulia, e sono qui per parlarvi di un prodotto, che può aiutarvi a risolvere un problema piuttosto comune e fastidioso. Le emorroidi. Se siete qui probabilmente avete già sentito parlare di Protolin, ma voglio darvi qualche informazione in più per aiutarvi a capire, se questo prodotto è adatto a voi. Iniziamo col dire che Protolin non è disponibile in farmacia, ma solo sul sito ufficiale. Potete trovare il link nella descrizione di questo video, assicurandovi così di acquistare il prodotto originale con tutte le garanzie. Le emorroidi possono causare dolore, irritazione, prurito e sanguinamento durante la defecazione. Tutto ciò può influire negativamente sulla vostra qualità di vita, ma non dovete arrendervi. Ci sono prodotti in grado di alleviare questi sintomi e accelerare il processo di guarigione. Protolin si basa su una formula unica, a base di ingredienti naturali, che agiscono direttamente sulla zona interessata, alleviando i sintomi fastidiosi e favorendo la guarigione. La sua composizione non contiene ormoni, il che lo rende adatto anche a coloro, che preferiscono prodotti naturali. L'unguento di Protolin stimola la produzione di collagene, promuove l'attività antimicrobica e aiuta a rigenerare le cellule. Inoltre, grazie alla sua azione antinfiammatoria, aiuta a ridurre il gonfiore dei tessuti. Protolin è facile da usare. Dopo aver eseguito l'igiene intima, applicate un sottile strato di unguento sulla zona interessata e attendete che venga assorbito. Potete utilizzarlo due o tre volte al giorno per ottenere i risultati desiderati. Il prodotto è approvato e raccomandato dagli esperti del settore e prodotto secondo rigorosi standard sterili, senza controindicazioni. Più di mille clienti hanno già apprezzato i benefici di Protolin e sono soddisfatti dei risultati ottenuti. Se anche voi volete ritrovare il benessere e sbarazzarvi dei fastidiosi sintomi delle emorroidi, vi consiglio di provare Protolin. Non esitate a fare domande o a chiedere chiarimenti nella sezione commenti, sarò lieto di rispondervi. Grazie per aver seguito questo video e arrivederci.